Ora è ufficiale. Francesco Menna, sindaco di Vasto in quota PD, è il nuovo presidente della provincia di Chieti, succedendo a Mario Pupillo. Il Tar ha respinto il ricorso presentato dal centrodestra a seguito di un errore nella consegna delle schede elettorali. Non ricorrono i necessari presupposti di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire nemmeno la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie. Questo quanto messo nero su bianco dal giudice Paolo Passoni. Il 18 dicembre i 986 amministratori dei 104 comuni della provincia tetina erano stati chiamati al voto, ma nove schede elettorali non corrispondevano all'esatto numero della popolazione, in base al quale nel voto ponderato si determina il peso delle preferenze. Così 16 comuni ieri sono tornati alle urne, eleggendo Menna con circa 15.000 preferenze di stacco dal candidato del centrodestra, il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini. Non finisce qui, faremo un nuovo ricorso, fanno sapere dal centrodestra. Non si può andare a votare conoscendo già i risultati, dicono da Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare. Il risultato però non ha destato alcuna sorpresa, poiché infatti sono gli amministratori a votare con voto ponderato, in quanto i comuni per popolazione più importanti sono governati dal centrosinistra, la vittoria di Menna era matematicamente prevedibile. Situazione opposta ad esempio a quella della provincia di Pescara, dove come da pronostico ha vinto il candidato del centrodestra De Martinis. Nel nuovo consiglio provinciale di Chieti ora ci saranno sette consiglieri di centrosinistra e cinque di centrodestra. Il consigliere più votato è stato Arturo Scopino, sindaco di Montelapiano, il comune più piccolo della provincia. Scopino, già vicepresidente con pupillo, probabilmente manterrà la stessa carica.